Saranno due le piazze a Patti in cui questa sera si concluderanno i comizi, quella classica Piazza Marconi e poi quella inedita cioè Piazza Garibaldi di Patti Marina ma solo per alcuni candidati a sindaco che ne hanno fatto richiesta. Questa l'ultima novità per i botti finali di questa campagna elettorale dopo i sorteggi effettuati questa mattina presso il commissariato di Patti che mai aveva visto un numero di candidati a sindaco così ampio cioè sette e un lungo stuolo di candidati al Consiglio Comunale. In Piazza Marconi i candidati parleranno per 20 minuti ciascuno. Sarà Nicola Calabria ad aprire alle ore 20 e 10 e poi si susseguiranno nell'ordine Alessio Papa, Maria Teresa Calabrese, Nino Lena, Gianluca Bonsignore, Nino Miragliotta e concluderà il sindaco uscente Mauro Aquino. A Patti Marina dove solo tre candidati hanno fatto richiesta sarà sempre Nicola Calabria ad aprire le danze per un'ora poi sarà la volta nell'ordine di Nino Lena e di Nino Miragliotta ma per mezz'ora. Si avvia dunque a conclusione una campagna elettorale che ha visto i candidati raggiungere i punti più disparati del territorio. le frazioni più lontane. La maggior parte hanno iniziato nel centro storico in quella parte che un tempo solo da pochissimi candidati era stata scelta poi via via sono state raggiunte le zone più periferiche per focalizzare l'attenzione soprattutto nelle piazze più calde e tra queste quella di Patti Marina. Sono stati i momenti in cui i candidati a sindaco e a consiglio hanno espresso le loro critiche e le loro proposte utilizzando per la maggior parte il web e facebook non disdegnando però i confronti in radio ed in tv. Stasera gli ultimi botti in attesa della lunga notte del 5 e della mattina del 6 giugno.